Il fatto era che li avresti lasciati andare, mi sembra. Ma è una cosa impossibile! Come sei riuscito a liberarti? Ha sfruttato in modo molto abile il controllo degli elementi atmosferici. Il controllo degli elementi atmosferici? Proprio come narrano le leggende. Ma chi sei in realtà? Quali poteri hai? Ti riferirò il messaggio che mi hanno affidato gli altri. Posso essere la regina del Sadomaso, o un'abile scassinatrice vestita di nero, oppure una guerriera dall'argento e armatura. Ma in realtà io sono... Honey Flash! Sono Judy Honey, la combattente dell'amore. Le vostre malvagie esistenze terminano qui. Quindi preparatevi a morire. Ma che ragazzina imputente! Puoi farne ancora una bella statuina? No, non voglio più vederla, mi è stancata. Bene, e allora posso divertirmi un po' con lei? Mi dispiace deluderti, ma la stessa tecnica non funziona due volte. Stavo, dove sei? Ok, state bene tutti e due. Tu come stai dopo quel bagno nella plastica? Un altro poi ci sarebbe voluto il medium per parlare con noi. Non dirlo neanche. Adesso non hai più nessun alleato. Sei ancora decisa a combattermi? Non ho certo bisogno di quell'inutile essere per sconfiggerti. Ma quella! La vera battaglia comincia adesso! Stappato, Honey! Allora, Honey, che ne dici anche così? Sono piuttosto carina, no? Dove stai guardando? Honey! Ti ha ferita? Va tutto bene? Com'è possibile? Se dici di stare bene bisogna credermi. Lascia che ti faccia a sessine, mia piccola regina. Devo farmi venire un'idea. Così finirà per battermi. Vorrò fine alle tue sofferenze dandosi il colpo di grazia. Batti sotto, Demone! Questo non è un gioco, piccola! Infatti non sto giocando! A che ti serve un'arma se non sei capace di colpire il bersaglio? Credi? Te ne accorgerai. Che cosa è? Plastica liquida! Maledetta! Allora, che si prova a diventare una statua vivente? Ami! Ami! Comeno! Vada! D'argento! Forza degli isieri! Non potrò mai perdonare che ha ucciso delle ragazze innocenti al solo scopo di poter giocare con la loro bellezza Il mio bellissimo corpo, maledetta L'hai rovinato Un mostro come te non ha nessun diritto Tantomeno quello di essere bella Io non sono ancora morta Non voglio tornare agli inferi da solo Tu verrai con me E' finita, Annie è riuscita a eliminarli entrambi E' stata una vera delusione Non importa, hanno comunque portato a termine il loro popito Ah sì? E che cos'è?